Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi voglio parlare con voi di Paypal e dei vari blocchi e sospensioni che vi possono capitare mentre vendete utilizzando Paypal. Quindi, rimani con me. È un po' di tempo, cerco una settimana che non pubblico video, mi scuso ma sono stato molto occupato. Oggi voglio affrontare un argomento che vedo essere molto comune, perché mi fate molte domande nei commenti, mi cercate anche su Facebook con queste domande, quindi voglio chiarire un po' con voi alcuni argomenti importanti per quello che riguarda Paypal. È già venduto su Ebay o tramite anche un altro tuo sito, tramite Shopify accettando Paypal, sai che Paypal ha molti blocchi di denaro e tante tipologie di sospensioni che possono capitare. Quindi oggi voglio vedere le più comuni insieme a te e vedere come affrontarle per evitare problematiche e avere i soldi e fondi sbloccati più velocemente possibile. La prima sospensione o blocco di cui voglio parlare è quello mai famoso dei 21 giorni. Se sei un nuovo venditore o hai venduto poco attraverso Paypal, sai a cosa mi riferisco? Quando fai una vendita, Paypal ti blocca i fondi di quella transazione per 21 giorni. Perché succede questo? Può succedere per tanti motivi. O se sei un nuovo venditore, non hai mai venduto tramite Paypal, accettando Paypal, o tramite Ebay perché blocco dei 21 giorni, ti può capitare anche richiesto da Ebay. Quindi magari hai storico su Paypal, ma non hai storico su Ebay e ti bloccano i fondi per 21 giorni ugualmente. Un altro motivo per cui può capitare è una transazione sospetta o una transazione fuori dal tuo storico. Quello che intendo dire è che se tu vendi sempre oggetti da 20€ e un giorno fai una transazione da 400€, probabilmente quella transazione ti viene bloccata, soprattutto se sei un nuovo venditore e non hai un account Paypal datato di molti anni. Questo succede perché Paypal non ti conosce, non ha storico, o se ha storico o non ha storico, riguardante quella cifra o quegli oggetti, e quindi vuole prevenire che tu sia un fruttatore o un truffatore. Può anche capitare progetti ad alto rischio, come infoprodotti, oggetti virtuali. Il miglior modo per affrontare questa cosa, per affrontare questo blocco, è caricare il codice tracking. I fondi infatti vengono sbloccati o 21 giorni dopo che finisce la transazione, quindi tu vendi il tuo oggetto, aspetti 21 giorni e al 22esimo giorno avrai i fondi sbloccati in modo automatico. Questo te lo posso garantire, almeno che l'acquirente non apra una controversia. Un modo più veloce per avere i fondi sbloccati più velocemente è quello di caricare un tracking number valido sia su Paypal che su eBay, se usi ebay. Se usi ebay e lo carichi lì, Paypal lo prenderà automaticamente. Infatti, dopo che l'articolo risulterà consegnato, Paypal ti sbloccherà i fondi di quella transazione entro 1-5 giorni lavorativi. Questo può anche non capitare, se il sistema automatico non funziona correttamente, però puoi contattare il support Paypal e chiedere che ti sblocchino i fondi per la transazione se risulta consegnata. C'è un modo per eliminare del tutto questo problema? Sì. Quello di fare storico. Una volta che tu farai abbastanza storico con Paypal e ti parlo, ci vogliono comunque mesi e tante transazioni, centinaia di transazioni, Paypal lentamente smetterà di bloccarti i fondi che vengono a giorni. O almeno smetterà di bloccarti i fondi per le transazioni che fai più spesso. Quindi se fai le transazioni sempre da 20€, prima o poi smetterà di bloccarli. Però se fai una transazione più alta, magari te li blocca di nuovo. L'unico modo per toglierlo è fare storico. Oppure avere una revisione manuale dal team di Paypal. Ma questo lo vediamo più avanti. Un'altra domanda che mi fate spesso nei commenti nel canale quando pubblico video di Paypal è quella per i minorenni. Mi contattano molti minorenni che hanno il conto bloccato perché devono verificare i documenti o perché Paypal gli ha chiesto a verifichere i documenti. Oppure conti che avevano aperto quando erano minorenni e che non possono verificare oggi che sono maggiorenni. Mi dispiace darvi questa notizia, ma in quel caso non potete sbloccare il conto. Infatti i termini e condizioni di Paypal vi rietrano assolutamente i conti ai minorenni. Inoltre Paypal non accetta cambiamenti anagrafici, quindi non può cambiare la tua data di nascita nel conto. Almeno chiesti tratta di un errore e devi mandare la documentazione a Paypal dove mostri la tua realtà di nascita. Però è ovvio che se hai il conto da 5 anni e hai messo una data completamente diversa, non te la correggeranno. E non solo, se scoprono che il conto è di un minorenne o era di un minorenne e te lo bloccheranno, anche se non è ancora bloccato. Quindi se hai fondi bloccati su Paypal e ti chiedono i documenti, ma sei o eri minorenne e non hai i documenti da poter dare, non c'è assolutamente nessun modo per sbloccare questi fondi. Perché a termini e condizioni Paypal lo può bloccare e tenersi i conti. Mi dispiace. Un'altra circostanza di verifica comune è quella della soglia dei 2.500 euro. Infatti devi sapere che Paypal ha l'obbligo di verificare i tuoi documenti, quali carta di indietà o passaporto è una tua prova di indirizzo, come può essere una bolletta o un contratto di affitto o un estratto conto bancario quando raggiungi i 2.500 euro. Se tu non fai la verifica di questi documenti, il conto ti verrà sospeso e non potrai né prelevare il denaro né inviarlo. Solo ricevere i pagamenti. Solitamente Paypal invia una comunicazione a 1.800 euro per avvertirti che devi caricare questi documenti. Quindi se li invii per tempo quando raggiungi i 1.800 euro, quando arriverai a 2.500 euro probabilmente sarai già verificato e non avrai nessun tipo di blocco. Se te lo stai chiedendo, no, non è possibile inviarli prima dei 1.800 euro. Ti devono essere esplicitamente chiesti da Paypal. Ora parliamo un attimo delle revisioni un po' più serie, quelle per anomalia, cioè quando il team di sicurezza di Paypal si trova a Dublino, ubicato a Dublino, metti il tuo conto in sospensione per fare una verifica manuale. Questa è la parte più delicata e più pericolosa quando lavori con Paypal, perché ci sono delle persone che vanno dettagliatamente a vedere il tuo account, le tue transazioni, il tuo operato, il tuo business model e decidere cosa fare con te e con il tuo conto. Perché succedono queste verifiche manuali? Possono verificarsi per tanti motivi. Il più comune è uno spike di vendita in positivo. Cosa intendo? Intendo dire che se tu hai sempre venduto 100 euro al giorno e poi di colpa inizi a vendere 500-700 euro al giorno, Paypal entra in crisi perché non è abituata a queste cifre con te, perché stai uscendo fuori dal tuo schema e quindi si preoccupa e ti mette in sospensione all'account per fare una verifica e ti chiede cosa è successo, come mai hai aumentato le vendite, cosa stai facendo, cosa farai per affrontare questo volume di vendita. Riesci a evadere tutti gli ordini, riesci a spedirli per tempo, come affronti le controverse. Dove prendi il tuo materiale? Perché stai vendendo così tanto? Sì, hai il diritto di farti queste domande e lo farai. E dovrai farti trovare pronto. Ho fatto un altro video dettagliato sulle sostensioni di Paypal e su cosa chiedono solitamente. Poi voglio ribadire che ogni caso è soggettivo, può variare e serve un'analisi soggettiva della casistica. Quindi non c'è una soluzione unica perché tutti noi abbiamo business model diversi e schemi diversi di vendita. Un altro motivo per cui c'è una revisione manuale su Paypal è quella di vendita ad attivo e ad alto rischio. Ad esempio, se vendi cellulari, se vendi computer, se vendi infoprodotti, sei ad alto rischio rispetto a una persona che vende fotere per cuscini e i tre camati a mano, perché è più difficile fare truffe su fotere per cuscini. La maggior parte dei truffatori andranno a vendere cellulari, computer, troppe elettroniche, infoprodotti. Quindi se vai a vendere una determinata tipologia di prodotti, preparati a una verifica manuale, perché statisticamente sono i prodotti dove ci sono più truffatori, più frosi, quindi Paypal vuole verificare personalmente il tuo business model. Per quanto riguarda lo spike di vendita di cui stavo parlando poco fa, vuoi raggiungerti una cosa, se tu ovviamente devi aumentare, devi scalare il business, è ovvio che vai a aumentare le cifre che ricevi, però se non vuoi avere una revisione manuale o una sospensione per conto, perché se sei una nuova persona, un nuovo cliente, potrebbero anche sospenderti a vita, anche se sei a posto. Il trucco è andare in modo progressivo, ok? Quindi se vendi 100 giorni, passa a vendere 120, fai un po' di storico, poi passa a 150, fai un po' di storico e poi passa a 200. Così puoi ridurre la probabilità di sospensione e di verifica. Ma prima o poi potrebbero comunque metterti in verifica manuale. Non devi avere paura di questo, devi affrontarla, ma devi essere preparato. Se vuoi qualche consiglio, contattami pure, mi questioni nei commenti, su Facebook, su Instagram, o scrivermi semplicemente alla mia email che trovi in descrizione al video. Ovviamente ricordati di stiletti al canale, mettere like, così sarai sempre aggiornato sui miei prossimi video, sul dropshipping, sul processo di pagamento e sulla formazione di finanza personale in generale. Tornando a noi, un altro motivo comune di verifica o sospensione dei fondi sono le troppe controversie. Se tu ricevi troppe controversie su PayPal o su eBay, che contano anche quelle, perché una controversia su eBay si tramuta in controversia PayPal. Se ricevi troppe controversie, significa che qualcosa nel tuo prodotto non va, nel tuo business model non va. Quindi PayPal vuole rivederci chiaro. Ti informo che la percentuale media di controversie tollerate è l'1%, quindi se sei sopra l'1%, quindi più di una controversia al mio centroventite, sei a rischio di divisione manuale. L'ottimale è 0,5%, 1%. Poi, per come la penso io, l'ottimale è 0%, devi sempre cercare di evitare le controversie, di evitare qualsiasi problema e qualsiasi contenzioso. Cerca sempre di risolvere con il cliente in privato. Meglio tenere quei metri che a 0% se non vuoi avere nessun tipo di problema. Ovviamente, se ti aprono una controversia, i tuoi fondi e quella transazione vengono frizzati e messi in sospensione. Assicurati sempre di, su PayPal, rilasciare un paio di centinaia di euro per coprire eventuali controversie. Perché? Perché se non hai fondi su PayPal e ti aprono una controversia, il conto diventa in negativo. E questa è un'altra motivazione di conto sospeso o blocchi da parte di PayPal. Troppe volte andare in negativo. Quindi vi consiglio di lasciare sempre il 10-20% dei tuoi fondi su PayPal. Non lasciare di più, non lasciare mai troppi soldi su PayPal perché è pericoloso. Come vedi, ti può sospendere l'account e il conto in un momento all'altro. Quindi è meglio avere i soldi in banca o nella tua carta. Lascia solo quello che è necessario per eventuali contenziosi, eventuali rimpossi e controversie. Ovviamente, ragazzi, ci sono tanti altri motivi per cui PayPal potrebbe sospenderti o bloccarti i fondi. Come ho detto, ogni caso è a sé e ogni caso ha bisogno di un'analisi soggettiva. Quello che ti posso consigliare è cerca sempre di lavorare pulito. Evita i prodotti digitali se non sai venderli perché i prodotti digitali sono i prodotti con più alto rischio possibile per PayPal perché non puoi fornire tracking number se non sai come fare. Non puoi fornire diritto di recesso. Ci sono troppe complicanze. PayPal non gli piace. Ovviamente, puoi sempre vendere. C'è chi fa un sacco di soldi con gli infoprodotti. C'è chi vende migliaia e migliaia di euro a settimana. Nessuno te lo vieta, però sappi che sei più soggetto a controlli. Ovviamente, se sai poi come passare questi controlli, come affrontare PayPal, potrai vendere in tranquillità. Ricordati di iscriverti perché farò altri video su PayPal e sulle sospensioni. Faremo anche un case study. Andremo a studiare un caso di sospensione, di verifica insieme e come l'ho affrontato e come l'ho supernatto. Sperando che queste informazioni ti possano servire per il tuo business e che puoi scalare più facilmente e non preoccuparti dei processori di pagamento perché è normale avere revisioni, devi semplicemente sapere come affrontarle. Ora ti saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!